Compagno Comandante Supremo, Capitano della Guardia del Servizio Medico d'Aria Svetiage. Sono un medico militare, ufficiale di carriera. Vengo da una piccola città nel territorio di Stavropol. E oggi, in questa sala, ci sono così tanti eroi, persone degne, che in realtà è ancora incredibile che io sia riuscita ad essere in questo programma e tra di loro. Vorrei esprimere gratitudine a voi, Vladimir Vladimirovich, per questa straordinaria opportunità di partecipare a questo programma, acquisire nuove conoscenze, contatti, che senza dubbio avrà un impatto positivo ed efficace sul nostro lavoro, sia nella sfera militare che in quella civile. E oggi vorrei raccontare una piccola storia di coraggio ed eroismo dei nostri ragazzi. Mi sono trovata nella zona dell'operazione militare speciale, fin dal primo giorno. E ho iniziato a Gastomel. Sono arrivata nelle aree di retrovia. Un giorno ci hanno portato un ferito. Non sapevamo chi fosse, da dove veniva. Non aveva più di metà del viso, solo il collo, una lingua e gli occhi. Non riusciva a respirare. Aveva una gamba ferita, ma non ce n'era proprio il tempo. Lottavamo per la sua vita. Quando sono arrivati i suoi compagni e hanno chiesto di fare visita, ho scoperto che era un soldato della mia unità. Ho scoperto che questo soldato ha coperto con il suo corpo il comandante e un compagno. E quando passavamo accanto, lui ci afferrava le mani, stringendole, nonostante tutto il dolore, esprimendo gratitudine verso di noi. Nel PPD siamo tutti commilitoni, compagni. E quando ci troviamo lì, siamo tutti una grande famiglia. E non importa ogni persona, sia essa un soldato, sergente o ufficiale, è una persona che viene percepita come un tuo parente stretto. Tra l'altro, questo soldato è sopravvissuto, ha fatto la riabilitazione e continua il suo giusto cammino. E sono orgogliosa dei nostri ragazzi che svolgono il loro dovere militare. Sono orgogliosa del nostro Paese e sono sicura che la vittoria, senza alcun dubbio, sarà nostra. Grazie. Non posso nemmeno commentare, ma una cosa non posso fare a meno di notare. questo non è un caso isolato di cui avete appena parlato, quando un soldato ha protetto il suo comandante con il suo corpo. Ci sono molti casi in cui semplicemente i compagni coprono e basta. Non dappertutto. Ci sono persone che sono pronte a sacrificarsi per il prossimo. Questa è educazione. Un'educazione che si tramanda di generazione in generazione. a volte anche e non è perché qualcuno ci impone qualcosa in modo categorico. Fai così. Fai cosà. È legato all'esempio che ci danno i nostri cari, prima di tutto i nostri genitori, e non imponendo nulla vivono semplicemente la loro vita. E questo si assorbe, va nel nostro subconscio. E viviamo con questo, senza nemmeno accorgercene. e quando si verificano situazioni straordinarie, tutto ciò si manifesta. Sono molto contento che il nostro combattente sia sopravvissuto. E non solo è sopravvissuto, ma spero che stia avendo una vita normale. Se ha bisogno di qualcosa, fatemelo sapere attraverso i vostri istruttori. Lo sosterremo e aiuteremo sicuramente. E grazie mille a lei per svolgere questa missione. È una missione difficile e pesante per chiunque, tanto più per una donna. E dove ha ricevuto la sua istruzione? Dove ha studiato? Ho terminato l'Accademia Medico-Militare nel 2018. Chirova, giusto? Sì. Chirova? E in quale specialità? Cirurgo. Cirurgo? Penso che non ogni uomo seduto qui potrebbe essere un chirurgo. Dopotutto è una missione così particolare. Come ti è venuta questa idea? Avevi parenti che erano medici? No, non avevo militari, non avevo medici. Ma è successo fin dall'infanzia. Forse inconsciamente, quando mia nonna era nell'orto, con una zappa feriva una rana e io la cucivo con dei normali fili. Era inconscio. Sotto anestesia? Senza anestesia, sopportava. e cosa ne pensate di quello che succede qui del sistema educativo? Voglio sottolineare che l'organizzazione qui è di un livello piuttosto alto e comunque programma presidenziale e dal mattino, dalle 7 del mattino fino alle 23 ci occupiamo delle nostre attività. Questo è un lavoro intenso è certamente utile. Detto dai miei compagni, i nostri colleghi e insegnanti di Rosatom ci hanno insegnato la produzione snella. Non ho mai immaginato che scorre così. Ogni giorno si può dire lo usiamo nella vita quotidiana, ma non abbiamo mai pensato che si potesse fare ancora meglio e che si chiamasse così. Ci aprono gli occhi sul mondo, su molte cose. Ci aprono gli occhi su come possiamo unire di più il collettivo, fare la nostra squadra. E il rompighiaccio ne è stato un esempio quando ci hanno messi in uno spazio limitato e privati di tutti i mezzi di comunicazione. Ognuno di noi è stato costretto a comunicare con gli altri. Che lo volesse o no, ci siamo comunque uniti. questo è anche un elemento di team building. Sì, è anche una prova, concordo. Le persone che mandano nello spazio, anche loro vengono studiate e gli psicologi vedono se possono stare insieme per un certo periodo in uno spazio chiuso. È vero, ma spero che non sia tutto quello che vi insegnano e vi educano qui. Avete una professione molto nobile e voi come vi vedete in futuro? Al momento, fino alla fine dell'operazione militare speciale, SWO, ho intenzione di rimanere nelle forze armate e continuare a svolgere il mio dovere militare. Per il resto, sto ancora osservando. Il servizio civile per me è ancora un po' distante, incomprensibile. Dopo che i nostri insegnanti ci avranno spiegato più in dettaglio tutti gli aspetti, penso che troveremo qualcosa che ci piace. E così avete finito. L'Accademia. L'Accademia, tra l'altro, è molto antica, con buone tradizioni. Docenti preparatissimi. È probabilmente il primo istituto medico militare di tale livello, di tale classe. Alla fine, dove siete stati assegnati subito per il servizio? Sognavo di entrare nelle forze aviotrasportate dopo l'Accademia Medica e ci sono riuscita. Ho servito nella 31 Brigata d'Assalto aviotrasportata. E lì ci siete ancora adesso? Al momento sto seguendo un corso di perfezionamento. Il certificato del dottore ha una certa data di scadenza e per fornire assistenza in modo competente dobbiamo migliorarci. Attualmente sto seguendo un corso di aggiornamento professionale presso una filiale dell'Accademia Medico-Militare nella città di Mosca. Capisco, grazie davvero. Buona fortuna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.